Pirotecnico, 3-3 fra Agnone e Pineto, un risultato che va meglio agli ospiti piuttosto che ai locali, in vantaggio, fino ad una manciata di secondi dal termine. Agnone benissimo nel primo tempo, lieve calo nella ripresa, locali senza lo squalificato a costa. Debutto per il neo arrivato attaccante Federico Amaia, proveniente dal Biancavilla, serie D, negli ospiti fuori per squalifica Speranza ed Alessandro. Lo dirige il signor Silvera di Valdarno di fronte a circa 500 spettatori nel sabato che precede la classica festa dell'Andocciata. Nella prima frazione succederà moltissimo, andiamo con ordine, Agnone propositiva all'ottavo cross di Nicolao, interviene Amaia in anticipo su Amadio, ma la palla si impenna, toccata forse anche dal portiere ospite. Il Pineto è da prendere con le molle al decimo tutta la bravura di A-quadro, direttamente da calcio di punizione. Inutile il tuffo di Mejeri, abruzzesi avanti al Cevitelle, l'Olimpia non si lascia impaurire dallo svantaggio che dura soltanto 4 minuti. Al 14esimo infatti è Diarrà a premiare una bellissima verticale di Peic, palla alle spalle di Amadio che non può nulla e parità ristabilita. L'Agnone è in gara e quando può punge, al 17esimo il tiro di Viscovic si trasforma in assist per il neo arrivato Amaia. Sembra rete sicura ma Amadio fa il miracolo di giornata con il piede, fase migliore per i Granata, ancora vicini al sorpasso, al 21esimo il cross di Nicolao diventa un tiro in porta che però scheggia la traversa per sfortuna dei locali. Le occasioni del primo tempo sono tutte dell'Olimpia, al 31esimo Gran Sinistro esploso da Viscovic con la palla che non esce di molto a lato. Il pubblico dimostra di gradire mentre il Pineto riesce ad imbastire davvero poco in attacco. Abbastanza evanescente il neo arrivato Tomassini che però si riscatterà. Riecco i Pinetani al 35esimo con un mancino di Ciarcelluti deviato in corner. La partita vive di tanti spunti anche se è l'Agnone che prova decisamente a farla più degli avversari. Il Pineto si fa pericoloso solo da fermo al 39esimo ancora a quadro su cui Megeri è bravo nella parata in calcio d'angolo. Dal corner che ne scaturisce non si possono tessere gli stessi elogi al portiere di casa che rimane a metà strada e così consentendo il colpo di testa di Tomassini che finisce in rete. Agnone che protesta per un possibile fallo ai danni di Frabotta che rimane a terra dolorante. Parziale bugiardo ma granata tenaci e che un minuto dopo il nuovo svantaggio si propongono in area con Cone che trova una parata decisiva di Amadio. Si batte l'angolo e Diarrà realizza sul secondo palo ma secondo l'arbitro signor Silvera di Valdarno lo fa commettendo fallo su Sissé. Gol annullato all'Olimpia agnonese. È un primo tempo nel quale succede tantissimo contraddistinto da botta e risposta. E che risposta dell'Olimpia che al 48esimo con Frabotta trova uno spettacolare pareggio. Il suo mancino beffa sul lato opposto Amadio. A fine primo tempo Agnone 2 Pineto 2. Segue una seconda parte di gara in cui le emozioni saranno molto più sporadiche. Il tecnico del Pineto Rachini fa un doppio cambio al ventesimo dentro D'Angelo e Sarrizzu in luogo di A quadro e Massa. Al 26esimo grande intervento difensivo di Frabotta. Ottima scivolata su Bianciardi con quest'ultimo che si stava prestando a calciare. Anche l'agnone provvede ad un cambio. Dalla mezz'ora debutto per il neo arrivato Alfawi, Italo Tunisino. Al 32esimo punizione tagliata di Sarrizzu. Su Paramegerì la palla arriva a Pepe che non impatta troppo pulito. Il pallone che torna fra le braccia del portiere Granata. Grossa pallagole per gli Adriatici che dal 34esimo restano in 10. Doppio giallo a Pepe costretto alla doccia prima del tempo. Il capitano del Pineto diventa così il portiere Amadio. L'Olimpia perde di lucidità anche per aver speso tantissimo nel primo tempo. Fattore importante è la superiorità numerica per più di 10 minuti. Al 37esimo cross di Diachite e mancato impatto al centro di Conè. Negli ospiti fuori Ciarcelluti dentro di Renzo. Nei locali fuori Conè salutato dagli applausi del pubblico di casa dentro d'Ercole. Al 41esimo grantaio di Nicolao e tuffo sul pallone appena sfiorato da Amaia. Palla che sibila a lato. La gioia del Civitelle è rimandata di poco. Siamo al novantesimo quando i Granata con un'azione fatta di passaggi stretti e ravvicinati trovano uno strepitoso gol del 3-2. A siglarlo è un bellissimo mancino del neo entrato d'Ercole. Il Civitelle esulta. Agnone avanti di un uomo e di un gol. Tre minuti di recupero comandati dal direttore di gara. Ma è incredibile quanto accade al novantatreesimo. La festa Granata sembra apparecchiata ma sulla punizione tagliata di Sarrizzu c'è l'estirada di Tommassini. Palla contro il palo e poi in rete. Troppa solitudine per la punta ospite autore di una doppietta. Qui l'arbitro decreta la fine dell'incontro. Agnone distratta nel momento topico della partita. Il Pineto si prende un punto e torna a casa. Mentre in casa alto molisana le recriminazioni hanno decisamente una loro fondatezza. Il Pineto si prende un punto e torna a casa.